Il ruolo della donna con Maria è essenziale per la storia della salvezza, lo ha detto Papa Francesco incontrando i docenti e gli studenti della Pontificia Facoltà Teologica di Roma. Senza le madri il mondo non ha avvenire, ha aggiunto il servizio di Alba Di Palo. Il ruolo della donna con Maria è essenziale per la storia della salvezza. Abbiamo bisogno di maternità, di chi generi e rigeneri vita con tenerezza perché solo il dono, la cura e la condivisione tengono insieme la famiglia umana. Lo ha detto Papa Francesco durante l'udienza che ha tenuto con i docenti e gli studenti della Pontificia Facoltà Teologica Marianum in occasione del settantesimo anniversario della fondazione. Per il Santo Padre la donna ha portato Dio nel mondo e c'è bisogno del suo ingegno e del suo stile. Ne ha bisogno la teologia perché non sia stratta e concettuale ma dedicata, narrativa e vitale. Le parole del Papa hanno poi creato una sorta di parallelismo tra la donna e la Chiesa perché quest'ultima ha bisogno di riscoprire il suo cuore materno che batte per l'unità ma ne ha bisogno anche la nostra terra per tornare a essere la casa di tutti i suoi figli. Maria lo desidera, evidenziato citando l'enciclica Fratelli Tutti perché vuole partorire un mondo nuovo dove tutti siamo fratelli, dove ci sia posto per ogni scartato delle nostre società. Poi lo sguardo sul mondo che senza madri non ha a venire. Gli utili e il profitto da soli non danno futuro, anzi a volte accrescono disuguaglianze e ingiustizie. Le madri invece fanno sentire ogni figlio a casa e danno speranza. La Marianologia può contribuire a portare nella cultura anche l'arte, la poesia e la bellezza che umanizzano e infondono speranza. Per Bergoglio i tempi che viviamo sono tempi di Maria ma abbiamo bisogno di riscoprire la Madonna secondo le prospettive del Concilio. Così come il Vaticano II ha rimesso in luce la bellezza della Chiesa togliendo la polvere che si è depositata su di essa nei secoli così le meraviglie di Maria si potranno meglio riscoprire andando al cuore del suo mistero. La Vergine è la madre che insegna l'arte dell'incontro e del camminare insieme. Maria è donna e il Pontefice ha ricordato le donne che non ricevono la dignità loro dovuta ribadendo che la donna che ha portato Dio nel mondo deve poter portare i suoi doni nella storia. Come la madre fa della Chiesa una famiglia così la donna fa di noi un popolo ha detto non a caso la pietà popolare attinge con naturalezza la Madonna. Per noi Maria ha concluso Francesco ecco lei che fa entrare Cristo, che fa passare Cristo, che partorì Cristo e sempre rimane donna. ecco lei che fa passare Cristo, che partorì Cristo e che partorì Cristo e che partorì Cristo è un'altra cosa che fa passare Cristo. Grazie.